ciao a tutti oggi faccio un mac bang con due fette di torta di mele fatte alla mia mamma prima erano in questa tortiera qua come potete vedere è finita cioè la sto finendo la finisco io perché è troppo buona ci sono dentro pinoli e noci e adesso mangiamo a tutti fuori una bella giornata diciamo c'è il sole ma penso che si faccia brutto pomeriggio spero di no anche se ormai è già pomeriggio perché è mezzo giorno e io sto pranzando con queste due fette perché abbiamo sempre avuto l'abitudine che la torta di mele la finisco io a casa mia abbiamo sempre sto canale di qua che abbaia sempre c'è il cane non vuoi il cane dei miei vicini che sta dalla parte di là abbaia sempre ogni volta che si muove una foglia lui abbaia è un po così come cane e dire che della stessa razza di frankie un golden retriever però non so perché sia così boh anche bello non è che baia solo è proprio cattivo come cane ha già morso un altro cane questa grande propria fortuna si è salvato però ancora tutti quanti punti nel collo quell'altro cane quindi ma spostato una fila perché devo andare a comprare queste pile oggi che non lavoro ci vado per questo alberello qua di natale se no non va mai non va quindi dove comprare l'anno scorso mi sono dimenticata questa non mi devo ricordare niente raga io vi saluto noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao